Ieri pomeriggio il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha visitato l'Accademia di Belle Arti di Ravenna per conoscere da vicino i laboratori di mosaico e approfondire l'importanza dei percorsi formativi del linguaggio musivo. Io penso che siamo però dentro un percorso dove insieme al Comune e insieme all'Accademia si possa guardare io credo con fiducia al futuro perché potrebbe accadere da qui a breve un fatto epocale che peraltro ha già un suo percorso approvato in Parlamento che è quello del riconoscimento e della statizzazione di questo istituto come da tantissimo tempo era stato chiesto. Questo cosa vorrebbe dire? Che quando e se verrà concesso ma il percorso che abbiamo avviato esattamente per andare in quella direzione permetterà di liberare risorse che il Comune potrebbe ad esempio ulteriormente investire anche per come si è impegnato il Sindaco De Pascale e l'assessore Uaded a trovare persino una nuova sede per questo istituto che ha bisogno di nuovi spazi, ha bisogno di avere magari un'opportunità di permettere per la didattica che si possa persino ampliare e ampliare le iscrizioni. E poi abbiamo l'obiettivo di Ravenna 2021 invece con questa occasione dei 700 anni di Dante che credo debba diventare un'occasione per valorizzare le eccellenze, le bellezze di questo straordinario territorio e obiettivamente come non riconoscere che il tema dei mosaici sia un elemento assolutamente decisivo da questo punto di vista.